Da oggi il parcomacchine della polizia locale di Pordenone conta tre nuove automobili che sostituiscono altrettante vetture con oltre 200.000 km al seguito ed entrano a far parte delle 13 totale a disposizione del corpo. Si tratta di tre Renault Megane diesel equipaggiate per poter intervenire in caso di incidenti o per improvvise problematiche di deviazioni del traffico e all'occorrenza sono predisposte per l'utilizzo delle attrezzature in dotazione del corpo come il telelaser, l'autoscana e il fonometro e sono dotate di tavolino retrattile sul vano portabagagli. Le auto sono state presentate questa mattina davanti alla loggia municipale alla presenza del sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti, dell'assessore alla sicurezza Bruno Zille e del comandante della polizia municipale Arrigo Buranel. Finalmente sono arrivate le nuove auto che vanno a sostituire delle auto con ormai centinaia di migliaia di chilometri che sono state proprio rottamate da ieri e queste nuove auto ci permetteranno di essere ancora più incisivi e presenti nel territorio ma soprattutto di operare per gli agenti in completa sicurezza. Lo sforzo è stato dare alla rottamazione alle macchine che avevano più di 200.000 chilometri ormai improponibili, attrezzarci con delle macchine che potessero essere già equipaggiate pensando alle future unioni territoriali con gli altri comuni, quindi sono equipaggiate con i giusti navigatori e in più una di queste la cella di contenimento all'interno perché voi capite che sempre di più se dobbiamo far fronte a situazioni critiche la polizia municipale deve essere protetta e quindi i mezzi che gli diamo devono essere consoni a quello che chiediamo loro di fare. La vera presenza nel territorio, la sicurezza del territorio, far sì che le norme vengano seguite, tutelarci, passa proprio attraverso la polizia municipale che oggi è quella che dal punto di vista della presenza fisica in città e nel territorio intorno è quella che c'è sempre, ma ha un ruolo molto più vasto e molto più capillare di quanto un tempo venisse descritto. L'amministrazione ha fatto grossi investimenti per quanto riguarda le nuove tecnologie proprio per poter favorire questo tipo di intervento, creare tutto un sistema proprio per mettere in condizione che il personale comunque possa essere al top rispetto alle molteplici attività a cui oggi la polizia municipale accanto ai cittadini è quella che più direttamente deve intervenire sulle molteplici richieste che oggi vengono fatte in termini di sicurezza. Grazie a tutti.